Benvenuti al meteo di Telenova, domani è domenica 27 luglio. Correnti settentrionali portano nubi con rovesci temporali a nord-est, Romagna, Est-Emilia e localmente in estensione anche all'est Lombardia e addensamenti con qualche rovescio al pomeriggio su Alto Piemonte, ampio soleggiamento altrove al nord. Al centro nubi e piogge regolari al mattino sulle regioni adriatiche, nord ed est Toscana, bel tempo altrove. Al pomeriggio peggiora in maniera più sensibile su centro-est Toscana, su tutti i settori appenninici e adriatici, con rovesci temporali frequenti, localmente anche forti tra Abruzzo, Marche e Molise. Asciutto sulle aree tirreniche e bello in Sardegna. Al sud già nubi e locali rovesci al mattino sul centro-nord della Puglia, meglio altrove. E in alta quota continueranno ad arrivare massa di aria fresca instabile che favoriranno qualche temporale sulle zone montuose. Il cielo sarà poco nuvoloso. Durante le ore pomeridiane si formeranno sui monti dell'entroterra addensamenti che potranno causare qualche temporale. Temperatura stazionaria, venti deboli di direzione variabile con locali di inforzi, mare mosso.